Sono Dario De Luca, una delle anime artistiche e organizzative del Festival Primavera dei Teatri, appena concluso a Castrovillari il 2 giugno scorso. È stata un'edizione straordinaria, la diciannovesima edizione, 26 spettacoli in otto giorni, con 19 traprime e anteprime nazionali, tantissimo pubblico, grande partecipazione agli spettacoli e a tutti gli eventi collaterali del Festival. Gli spettacoli, per chi ci conosce ma anche per chi non ci conosce, erano tutti spettacoli dell'ultima generazione teatrale, spettacoli di teatro contemporaneo, ma da tre anni dedichiamo anche una sezione del nostro Festival ai più giovani, agli spettatori più piccoli. Abbiamo inventato un Primavera Kids, per cui ci sono stati anche quattro spettacoli dedicati all'infanzia e alla gioventù. Oltre a questa sbornia di teatro, tantissimi appuntamenti collaterali, due presentazioni di libri, quattro laboratori teatrali, uno di scrittura critica, uno sulla regia teatrale, tenuto da Massimiliano Civica, uno su voce e postura, tenuto da Fabio De Benedetto, e un laboratorio per i bambini sulla costruzione di marionette e burattini, tenuto dal Teatro della Maruca. So che tanti sono venuti a trovarci a Castrovillari in questa edizione, so che tanti non lo hanno ancora fatto. Per cui mi auguro di avervi alla ventesima edizione del Festival, che si terrà tra fine maggio e i primi di giugno del 2019. A presto!